I nostri ricercatori sono maggiormente ingegneri chimici, chimici industriali, biotecnologi, biologi. Che cosa vanno a fare? Vanno a fare attività di ricerca pura su quella che è la chimica verde, per cui l'ingegnere chimico seguirà tutta la parte del processo, che competenze sono richieste, assolutamente precisione, assolutamente inventiva, perché è lui stesso che andrà a progettare un processo e a progettare gli esperimenti che verranno fatti poi in laboratorio. In laboratorio chi si trova invece? Si trova il chimico, il chimico industriale, il biologo, il biotecnologo, quindi anche loro sono ricercatori e andranno a mettere in atto le loro competenze un po' più tecniche, per cui competenze tecniche nell'utilizzo di strumentazioni di laboratorio come l'HPLC, il GC, il GC massa, dovranno analizzare l'esperimento che ha progettato l'ingegnere e dovranno essere in grado di metterlo in atto in laboratorio. Sicuramente un'ottima conoscenza della chimica, un'ottima conoscenza dei numeri, una capacità di elaborarli, i numeri e di capirli, di intenderli, per poi progettare e per poi metterli in atto nella progettazione degli esperimenti. Oltre a tutta questa parte di analisi del numero, l'analisi del dato, anche una buona manualità, una buona manualità nell'utilizzo della strumentazione di laboratorio, quella sicuramente. Ci vuole assolutamente una buona comunicazione, ci vuole la capacità di mettersi in gioco, non aver paura delle proprie idee, perché è dall'innovazione di questi giovani ingegneri, giovani laureati, che nasce tutta poi la nostra ricerca e nascono le nostre nuove idee che poi vengono a produrre dei nuovi risultati interessanti nella ricerca vera e propria. Da un candidato ci aspettiamo tanta voglia di imparare, tanta voglia di mettersi in gioco, la fiducia in se stessi, la fiducia negli altri, la buona comunicazione con tutto il resto del team.